Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero, chiuso in entrambe le direzioni il tratto in località Borgo a Mozzano a causa di una frana. Per la giornata di oggi, proclamato uno sciopero del trasporto aereo di 4 ore, fino alle 14 potrebbero verificarsi modifiche alla normale attività dei voli. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!